Ok, buongiorno ragazzi, eccoci qua con un nuovo video, benvenuti. Oggi facciamo un po' di correzione, da un po' di soluzione degli esercizi della verifica sulla circonferenza. In particolare volevo correggere gli esercizi 2 e 3, che erano i due più complessi. E l'esercizio 2, ho dato qualche indicazione già nella lezione dal vivo, ma lo correggo completamente qui con anche i calcoli. Quindi l'esercizio 2, tanto tutti gli esercizi avevano delle piccole varianti fra le varie versioni della verifica, soprattutto qui, diciamo, ho mescolato un po' le posizioni con sud, ost, nord, sud, ovest, est o nord. Però diciamo che dovreste riuscire abbastanza facilmente ad adattare questa soluzione anche agli altri casi. Allora, il testo ci dice che dopo un'esplosione a centrale nucleare siamo a capo di un gruppo di scorritori e ci dicono dove si trova la centrale rispetto a noi, a un chilometro a sud e sette a ovest. E intorno alla centrale si è disposta una zona rossa di 5 chilometri. In particolare non si può andare a distanza minore di 5 chilometri dalla centrale. Noi dobbiamo portare aiuti a un villaggio che si trova in una certa posizione che ci viene data, quindi a 4 chilometri a nord e 8 a ovest rispetto alla nostra posizione attuale. Quindi i primi due punti sono, diciamo, le consegne che io ritenevo basilari, cioè innanzitutto fare una rappresentazione grafica che dovresti sempre fare, anche senza che ve lo chiedano esplicitamente. E dopodiché dobbiamo, supponendo di muoverci in linea retta, determinare quale lunghezza del cammino viene percorsa all'interno della zona rossa. E sapendo che la velocità poi con cui viaggiano i mezzi, vogliamo sapere quanto tempo impiegheremo ad attraversarla. Quindi questo è più un, così, qualcosa in più. La cosa principale è scoprire quale lunghezza del cammino all'interno della zona rossa e rappresentare, diciamo, correttamente la situazione. Quindi una cosa è, naturalmente, stabilire il sistema di riferimento, che ho già un po' discusso dal vivo. La scelta del sistema di riferimento è libera, naturalmente può essere fatta in diversi modi convenienti. Io farò una scelta in questa soluzione, naturalmente, se uno fa un'altra scelta, deve adattare un pochino equazioni e valori numerici, anche se non è che poi, in definitiva, a meno che uno scelga una cosa particolarmente scomoda, cambino così tanto. Quindi, proviamo a fare disegno senza sistema di riferimento, intanto. Quindi abbiamo, mettiamoci i nostri punti cardinali, quindi diciamo, ovest, est, nord e sud. Dopodiché, vediamo, appunto, sappiamo che noi ci troviamo in un certo punto e la centrale si trova un chilometro a sud e 7 a ovest. Quindi diciamo che noi ci troviamo, magari, in un punto qui. La centrale si trova un chilometro a sud e 7 a ovest rispetto a noi. Quindi diciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naturalmente faccio il grafico qui non molto preciso senza quadretti. Poi lo cerco di fare meglio con GeoGebra. E il villaggio si trova 4 a nord e 8 a ovest rispetto a noi. Quindi, se noi siamo qua, se vi metto la N, qui si trova la centrale e il villaggio si trova a 4 a nord. 1, 2, 3, 4 e 8 a ovest. Quindi questo era 7, diciamo, una in più. E quindi qua si trova il villaggio. D'accordo? Quindi questi sono i tre punti di riferimento. L'altra figura importante è la zona rossa, naturalmente il confine della zona rossa. Quindi il confine della zona rossa è una circonferenza di raggio 5 intorno alla zona dove esplosa la centrale nucleare. Quindi, se voi guardate, viene proprio questo punto in linea orizzontale con il villaggio, perché sono proprio 5 unità. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E adesso modo 1, 2, 3, 4, 5. E ci possiamo fare appunto la nostra circonferenza. D'accordo? 1, 2, 3, 4, 5. Naturalmente adesso sto facendo senza un passo. E adesso ne faccio una precisa usando GeoGebra. Però questo più o meno ci dà un'idea di come dovrebbe essere il grafico. Naturalmente con quadretti, righe e compasso lo potete fare precisamente, non dico come quello di GeoGebra, ma abbastanza preciso. Se non usate il compasso, naturalmente la circonferenza non viene granché. Quindi il grafico può essere di minore aiuto rispetto a quello che potrebbe invece essere se l'aveste fatto preciso. Quindi questa è più o meno la nostra situazione. Ci sono i tre punti importanti, la circonferenza. Una cosa da osservare subito è che questo villaggio si trova in una linea orizzontale allineato con questo punto, che è l'estremo del raggio verticale. e quindi non sta sulla circonferenza. Perché il punto che sta sulla circonferenza dovrebbe naturalmente essere più in basso. Perché la circonferenza naturalmente non è una retta. Quindi questo segmentino, questo arco di circonferenza scende un po'. E quindi questo punto non può appartenere alla circonferenza. Naturalmente se uno si fa un grafico microscopico potrebbe poi essere confuso e non riuscire a distinguere questo punto da questo. O da questo. Per cui sembra che il villaggio stia sulla confine della zona rossa mentre non è così. Quindi, importante, come al solito, farsi un grafico abbastanza preciso e abbastanza grande. Quindi questo, ecco fatto in verde, è il cammino in linea retta che dovremmo seguire. E l'area all'interno della zona rossa, il tratto all'interno della zona rossa che noi seguiremo sarà fra questi due punti azzurri che disegno qua. Uno e uno due. Naturalmente questi due punti sono molto vicini, adesso ho fatto anche i punti molto spessi, ma non sono lo stesso. Quindi, adesso li indico con A e B e adesso poi, facendolo grafico con GeoGebra, me li rinomino al B. Quindi, vediamo come li chiama. E quindi questo è il nostro cammino di cui vogliamo determinare la lunghezza. D'accordo? Quindi, facciamo magari il grafico un pochino più precisamente. Ok, questo qui è il grafico fatto con GeoGebra. Naturalmente è un po' più preciso di quello che potreste fare a mano, però se a mano, appunto, come dicevo, usate compasso e riga e lo fate grande, dovreste riuscire a fare un bel grafico comunque. Comunque, come vedete, qui ho i punti del villaggio e dell'uscita dalla zona rossa sono evidentemente diversi e anche se sono vicini. E questo invece è il punto di ingresso nella zona rossa. Noi vogliamo trovare i punti di intersezione, quindi, fra questa circonferenza e questa retta. Quindi, quello che dobbiamo fare è determinare le equazioni e metterla a sistema e determinare i punti di intersezione. Quindi, come vedete qui, ho scelto il sistema di riferimento in modo che abbia centro col centro della circonferenza. Premesso che si può fare anche come molti hanno fatto, mettendo il centro nel punto dove ci troviamo noi inizialmente, questa può essere un'altra scelta conveniente, forse più conveniente, perché, come sapete, l'equazione di circonferenza è più semplice se la riferiamo al centro del sistema di riferimento. Viene l'equazione a retta più complessa, però, siccome tra i due oggetti il più complicato è la circonferenza, forse può essere, se io devo scegliere quale dei due semplificarmi al massimo, forse preferisco scegliermi la circonferenza, però, di nuovo, questa non era essenziale mettere il sistema di riferimento così per poter risolvere il problema in maniera soddisfacente. Quindi vediamo come si possono trovare e dobbiamo trovare le equazioni della circonferenza e della retta. Quindi questo è il punto B, troviamo l'equazione della circonferenza ed è in questo sistema di riferimento facile, perché è riferita il centro e l'origine, quindi non ci sono altri termini a parte questi due, e c'è il raggio al quadrato e il raggio è 5, quindi vedete che ce la sbrighiamo molto velocemente. Dobbiamo lavorare un po' di più per la retta e la retta possiamo però trovare facilmente la sua pendenza come al solito la pendenza di questa retta noi conosciamo i due punti A e N e quindi se volete possiamo vederla così adesso ogni quadretto è un'unità quindi si vede meglio abbiamo variazione su y che è 4 o meglio meno 4 e variazione su x che è 7 meno meno 1 quindi 8 per cui il coefficiente angolare è meno 4 frotto 8 quindi meno un mezzo uguale ci viene meno un mezzo e sappiamo che passa per quei due punti quindi possiamo o usare la formula direttamente la retta oppure scrivere questa l'equazione così con ancora il parametro libero e poi sostituire uno dei punti magari posso sostituire questo 7 e 1 quindi mi viene y uguale a 1 meno un mezzo per 7 più q e quindi mi viene q uguale 1 più 7 mezzi e quindi vuol dire 4,5 9 mezzi e quindi l'espressione della nostra retta è y uguale meno un mezzo x più 9 mezzi e controlliamo dal grafico vediamo che intercetta l'asse y proprio insomma intorno a 4,5 e quindi le cose ci tornano adesso una volta che abbiamo le due equazioni possiamo trovare i punti di intersezione quindi facciamo un sistema come avevo detto e mettiamo a sistema quindi questa equazione e questa 1 mezzo x più 9 mezzi allora a questo punto questo si risolve come al solito per sostituzione quindi andiamo a sostituire quella lì dentro teniamo un'equazione in secondo grado che ci dà i valori di x quindi più devo fare questo qui al quadrato giusto? quindi faccio subito i calcoli viene un quarto x alla seconda più 9 mezzi viene 81 quarti e il doppio prodotto viene meno 9 mezzi x uguale 25 quindi porto di qua il 25 e scrivo così quindi questa equazione dobbiamo risolverla ci facciamo i conti non vengono dei numeri super belli però neanche impossibili quindi abbiamo 5 quarti x alla seconda meno 9 x e poi abbiamo questo termine 81 quarti meno 25 meno 25 vuol dire meno 100 quarti quindi ci rimane se non sbaglio i conti meno 19 quarti uguale a 0 e quindi questa equazione è l'equazione che adesso dobbiamo risolvere per trovare i due valori di x che ci danno i punti intersezione e ce ne aspettiamo due perché dal grafico vediamo che la retta deve essere secante in due punti quindi ok scusate qui c'è 9 mezzi non c'è 9 quindi avevo sbagliato ho fatto i calcoli senza registrare così almeno ho evitato di fare errori per poi rifare tutto il video quindi li descrivo qui ho moltiplicato ancora tutto per 4 di modo che abbiamo non abbiamo denominatori che magari ci possono rompere le scatole in questo calcolo dopo di che uso la la formula dell'equazione a secondo grado quindi meno b più o meno b alla seconda meno 4 per a per c e se qua c'è ancora il calcolo sbagliato che avevo fatto prima e quindi qua viene 18 più o meno ci facciamo un attimo 18 alla seconda meno 20 per b per 19 quindi viene 18 alla seconda meno 20 anzi più 20 per 19 perché c'è un doppio segno meno quindi dovrebbe venire 704 a questo punto uno potrebbe portare cercare di portare fuori per esempio qua si può portare fuori sicuramente un 2 magari anche di più perché questo è divisibile per 4 però diciamo che non viene un calcolo particolarmente semplice anche tenendo i radicali anche se naturalmente se volete tenerli si possono tenere e quindi qui ho approssimato queste soluzioni a due cifre decimali potete tenerne anche una volendo però siccome quei due punti poi sono abbastanza vicini quelli che abbiamo notato prima nel grafico il villaggio il punto di uscita della zona rossa può essere utile mantenere insomma un pochino di precisione in più e qui abbiamo quindi due valori di x circa 4,45 e circa meno 0,85 che possiamo controllare sul grafico quindi è circa vedete 4,45 e meno 0,85 questo qua e con algebra naturalmente possiamo controllare anche più precisamente perché ci dà i valori ok a questo punto possiamo calcolare anche le y di questi punti e di nuovo sostituendo per esempio ho sostituito nell'equazione della retta che è delle due forse la più facile e ho fatto i calcoli con la calcolatrice quindi qui al posto di x nella retta ci ho messo xa e qui ci ho messo xb e si trovano questi due valori che naturalmente anche questi sono approssimati con due cifre decimali però vedete che sono sufficientemente precisi per quello che ci interessa quindi questo è circa 2,28 e questo è circa 4,93 come vedete non ci viene 5 perché questo punto non sta sulla circonferenza quindi questo scusate volevo dire ho detto una volta che abbiamo i due punti ci possiamo calcolare la distanza tra i due punti con la solita formula quindi qui di nuovo i calcoli dobbiamo farli un po' con la calcolatrice perché non vengono numeri bellissimi in questo caso però diciamo non è troppo complicato farli quindi qui abbiamo delta x e qui abbiamo il delta y quindi lo dobbiamo calcolare e poi il teorema di Pitagora ci permette di trovare la lunghezza ab quindi facciamolo quindi viene delta y uguale yb meno ya qui non importa il segno perché tanto poi li eleviamo al quadrato quindi possiamo scegliere come vogliamo l'ordine quindi viene 4,93 meno 2,28 d'accordo ce lo facciamo 4,93 meno 2,28 viene 2,65 sono sempre valori approssimati perché eravamo partiti da valori approssimati ma insomma al centesimo non dovrebbe esserci un errore troppo grande per i nostri scopi invece i due valori di x sono 4,45 meno 0,85 quindi sottraendoli viene 4,45 più 0,85 quindi dovrebbe venire 4,50 più 0,80 quindi dovrebbe fare 5,30 se non sbaglio i calcoli se li sbaglio ritorneremo indietro come al solito diciamo xb meno xa diciamo 5,30 in questo caso sarebbe un segno meno se ho preso come primo valore b ma tanto quando li sommiamo in quadratura per ottenere dal teorema di Pitagora la lunghezza del segmento questi segni comunque se ne vanno quindi possiamo farci radice di 2,65 al quadrato più 5,30 al quadrato ci viene 5,92 circa 5,93 diciamo e controlliamolo GeoGebra ci permette di fare il controllo anche delle lunghezze quindi distanza fra no ho preso v prendiamolo un pochino distanza fra b e a viene appunto circa 5,93 e quindi diciamo questo è la lunghezza circa 5,93 erano chilometri nella nostra scala e quindi questa può essere la nostra risposta ora una cosa che ci chiedevano era muovendoci a circa 30 km all'ora stimare il tempo necessario quindi sappiamo che la velocità media in modulo è data al modulo dello spostamento fratto l'intervallo di tempo impiegato a percorrere quello spostamento e quindi abbiamo l'intervallo di tempo sarà il modulo dello spostamento fratto il modulo della velocità media e quindi diciamo circa 5,93 fratto 30 questi sono chilometri questi sono chilometri all'ora e quindi diciamo questo è circa 6 se volete possiamo naturalmente farci calcolo con la calcolatrice più precisamente però se tanto vogliamo un'indicazione approssimativa visto che insomma questa velocità magari è una stima della velocità media che noi potremmo ottenere con i nostri mezzi possiamo magari approssimarlo a 6 trentesimi di ora che vuol dire 12,60 di ora e quindi 12 minuti quindi questa può essere una stima del tempo necessario approssimato in minuti d'accordo? quindi questo conclude diciamo il nostro punto C adesso vediamo il punto D come scusate questo era il punto B vediamo come potrebbe essere il punto C ci si chiedeva vogliamo percorrere il cammino più breve possibile però senza entrare nella zona rossa dobbiamo intanto rappresentare graficamente tale cammino e poi cercare di determinare l'equazione o le equazioni che descrivono questo cammino allora ci sono state sostanzialmente due strategie che la maggior parte delle persone ha usato vediamo se ok la camera la tengo qua così un traccio grafico qui diciamo ci sono due principali strade che le persone hanno usato una è stata questa adesso devo andare da devo rimpicciolirlo un pochino ok se devo andare da questo punto a questo la strada più breve diciamo la proposta è stata un'altra linea retta comunque verso il villaggio e una volta arrivato sulla circonferenza la giro il modo più breve per aggirarla è naturalmente andare sul bordo e quindi arrivo qua e dopodiché riproseguo sulla retta oppure sono persone che hanno confuso questi due punti e quindi hanno considerato solamente l'arco di circonferenza come secondo pezzo e basta quindi questa è una ipotesi altra ipotesi che le persone hanno fatto è fare le tangenti quindi camminare naturalmente lungo un percorso che viene più o meno così lo faccio a mano adesso lo faccio anche più precisamente con GeoGebra quindi diciamo vado sulle tangenti poi arrivato in quest'angolo proseguo sulla seconda tangente e questo dovrebbe essere il percorso più breve allora nessuno di questi due è il percorso più breve anche se anche se in entrambi c'è un'idea corretta nel primo percorso l'idea corretta che c'era era insomma cercare per quanto possibile di camminare sulla circonferenza perché è il modo per minimizzare il percorso almeno per un certo tratto il problema è che se io sulla circonferenza mi ci reco con questo segmento faccia in realtà più strada che non se mi ci reco usando la tangente per esempio perché questo segmento rosso più questo arco di circonferenza è un percorso più lungo che non andare direttamente in questo punto qua ok da n diciamo chiamiamolo non so c questo punto di tangenza e quindi il modo più veloce per andare in c non è passando per questo percorso rosso ma è passando per questo percorso dritto d'accordo quindi andare direttamente con la tangente e stessa cosa dall'altra parte ora se ammesso naturalmente che adesso mi sono recato sulla circonferenza usando la tangente perché è il modo che ottimizza in questo caso la lunghezza e il percorso però una volta che sono in questo punto non mi conviene proseguire facendo uno spigolo di questo tipo mi conviene a questo punto invece passare sul bordo perché naturalmente faccio meno strada che non facendo questi due segmenti e proseguo sul bordo fino all'altro punto di tangenza dopodiché riprendo sulla tangente e quindi il percorso corretto è più breve considerare le due tangenti però tra i due punti di tangenza proseguire sulla circonferenza quindi facciamoci il grafico un pochino meglio naturalmente si può fare sufficientemente bene anche con la riga però possiamo fare appunto le tangenti con GeoGebra e troviamo i punti di tangenza quindi questo e questo naturalmente con un grafico così preciso e anche se ce lo siamo fatti bene a mano dovremmo vedere abbastanza precisamente i punti di tangenza in realtà questo punto lo possiamo vedere sicuramente in maniera esatta perché sappiamo che questi due punti v e d hanno la stessa ordinata e di conseguenza la retta che passa per v e d è parallela all'asse x perpendicolare al raggio che ha come estremo d e di conseguenza deve per forza essere tangente quindi questa tangente è facile determinare così come il punto di tangenza la cosa difficile è determinare appunto questo invece tratto la tangente che va da n a c quindi determiniamo la tangente che va da n a c quindi questo è il punto c diciamo la tangente da d d ducati dal villaggio al punto d è facile abbiamo spiegato come si fa y uguale a 5 poi abbiamo la tangente invece da dove siamo noi fino al punto di tangenza allora in questo caso dobbiamo impostare tutto il procedimento per trovare le tangenti a una circonferenza e quindi abbiamo l'equazione generale di una retta che passa per il punto n che è m per x meno xn più yn quindi m non lo conosciamo xn e yn sì sono 7 e 1 quindi qua avrò x meno 7 più 1 quindi questo è uguale a mx meno 7m più 1 se vogliamo imporre una condizione di tangenza e quindi determinare m in maniera che questa retta appunto sia tangente questa come sappiamo è la generica retta passante per il punto n e se vogliamo prendere proprio quella che è tangente dobbiamo imporre questa condizione come facciamo come al solito abbiamo diversi metodi per quanto riguarda la circonferenza un metodo è mettere a sistema questa equazione con la circonferenza e poi nell'equazione risolvente richiedere che il delta sia uguale a 0 questo metodo naturalmente forse ci richiede un pochino più di calcoli abbiamo visto anche un altro metodo che spesso può richiedere qualche calcolo in meno che è richiedere che la distanza centro retta sia uguale al raggio questo ci permette di impostare un'equazione perché questo è un altro modo per dire la retta deve essere tangente d'accordo e quindi scriviamo la formula per la distanza centro retta ci ricordiamo che abbiamo bisogno di rimettere la retta in forma implicita quindi dovrò scrivere mx meno y meno 7m più 1 uguale a 0 questa è in forma implicita e i coefficienti della retta sono questo è il coefficiente a meno 1 è il coefficiente b e meno 7m più 1 è il coefficiente c quindi a questo punto abbiamo la nostra formula per la distanza centro retta e qui vediamo l'utilità di aver scelto il sistema di riferimento con la x e la y del centro uguali entrambe a 0 quindi nell'origine perché a questo punto la formula che è a per la x del centro più b per la y del centro più c fratto alla seconda più b alla seconda uguale al raggio vediamo che si semplifica molto perché questo è 0 e questo è 0 e quindi dobbiamo solo mettere coefficiente c che sarebbe quindi valore assoluto di meno 7m più 1 al denominatore abbiamo m al quadrato più 1 perché coefficiente a è m e coefficiente b è meno 1 al quadrato fa più 1 e qui abbiamo il raggio che era 5 quindi questa è la nostra equazione risolvendola troviamo la m della tangente o delle tangenti in realtà perché sappiamo che in questo caso dovrebbero essere 2 quindi per risolvere questa equazione ci ricordiamo che questa radice esiste sempre quindi da questo punto di vista non ci sono problemi non è mai 0 e questo è un valore assoluto quindi è sempre positivo 5 è sempre positivo quindi possiamo elevare tutto al quadrato ottenendo un'equazione equivalente e spostiamo questo di là 5 per 25 per radice di m al quadrato più 1 al quadrato qua il quadrato quindi valore assoluto non ci dà niente di aggiuntivo facciamo semplicemente il quadrato del binomio più 1 meno 14m uguale 25 per m alla seconda più 25 questa qui ci portiamo di là viene 24 m alla seconda meno 14m meno 24 uguale a 0 possiamo ancora semplificare è importante cercare di semplificare sempre perché dal punto di vista dei calcoli come vedete che sono già di per sé non semplicissimi e ci possono portare diverse volte a sbagliare se abbiamo dei calcoli più semplici dove possiamo semplificare dobbiamo farlo d'accordo ok quindi questa è la nostra equazione dovrebbe essere giusta quindi ci troviamo le soluzioni quindi i possibili valori di m che soddisfano questa equazione quali sono usiamo di nuovo la formula quindi 7 più o meno radice di 49 meno 4 per 12 per 12 col meno ancora quindi viene più quindi viene 4 per 144 che è 12 al quadrato fratto 24 quindi viene 7 più o meno se ci facciamo il conto possiamo anche fare la calcolatrice se siamo pigri 49 per 4 per 144 49 più e ci viene 625 625 625 sappiamo che è un quadrato perfetto ed è il quadrato di 25 quindi viene 7 più o meno 25 fratto 24 quindi due possibili valori di m sono 25 più 7 che è 32 24 esimi e semplificando per 8 viene 4 terzi oppure 7 meno 25 quindi viene meno 18 24 esimi e semplificando per 6 viene meno 3 quarti quindi queste sono le due possibilità e quindi in questo caso i conti non venivano troppo difficili e se andiamo a controllare dal nostro grafico dovremmo accorgerci che se l'abbiamo fatto più o meno bene questa può avere più o meno con GeoGebra ce l'ha esattamente ma anche il nostro grafico più o meno dovrebbe avere vedete meno 3 quarti come coefficiente angolare 4 quadretti 3 quadretti e l'altra tangente che è quella che non ci interessa ha coefficiente angolare positivo ed è 3 e 4 quindi 4 terzi come coefficiente angolare quindi questo ci conforta che possiamo aver fatto i calcoli giusti e ci fa scegliere anche il coefficiente angolare perché scegliamo questo d'accordo? perché no scusate cosa dico questo qua l'altro scegliamo perché nel nostro caso la pendenza è negativa d'accordo? quindi questo no e questo sì perché la pendenza è negativa tangente che ci interessa è negativa e lo vediamo dal grafico perché è una retta decrescente anche se non vediamo esattamente i 3 quarti d'accordo? quindi questo per quanto riguarda trovare la tangente e quindi ci andiamo a reinserire adesso questo meno 3 quarti per trovare proprio l'equazione all'interno di questa formula lo faccio qua quindi viene meno 3 quarti x meno 7 per quindi più 3 quarti più 1 quindi qua rimane 28 quarti più 1 no 7 per 3 21 21 quarti più 4 quarti quindi 25 quarti quindi meno 3 quarti più 25 quarti è l'equazione della nostra retta ok? 25 quarti è un po' meno di 6 andiamo a vedere se ci torna con il nostro grafico scusate un po' più di 6 perché 24 quarti sarebbe 6 e infatti diciamo è plausibile che ci venga così 25 quarti d'accordo? quindi questo è il nostro la nostra seconda equazione quindi infine c'è l'arco di circonferenza di cui sappiamo già l'equazione è x alla seconda più y alla seconda uguale 25 ora l'unica cosa che si potrebbe notare qui per farlo ancora meglio diciamo per farlo esattamente perché questa in realtà equazione l'abbiamo già determinata se voglio proprio l'arco superiore io potrei appunto selezionarlo ricavando y e poi scegliendo la parte col segno più quindi abbiamo x alla seconda e questo è particolarmente facile se abbiamo scelto il sistema di riferimento così altrimenti ci viene un'equazione un po' più difficile in cui dobbiamo usare la formula risolutiva dell'equazione di secondo grado come abbiamo visto altre volte e quindi nel nostro caso ci viene più 25 meno x perché è la parte di circonferenza superiore d'accordo? quindi in definitiva usiamo questa tangente qui tra la x del villaggio e 0 e x uguale a 0 poi usiamo questa funzione qui tra x uguale a 0 e la x del punto di tangenza c e infine usiamo l'equazione della retta che abbiamo trovato prima fra la x di c e la x da qui erano partiti che era 7 ma di queste sappiamo tutte tutti i valori tranne che del punto di tangenza quindi per fare le cose proprio per bene in realtà dovremmo ricavarci anche le coordinate del punto di tangenza questo ce lo possiamo fare se però siccome mi serve comunque per fare il punto d lo faccio direttamente correggendo il punto d d'accordo? quindi ho trovato le tre riassumendo il punto c ho trovato le tre equazioni e per essere più preciso dovrei anche dire tra quali valori di x io vado a considerare i diversi tratti e per questi valori di x mi manca solamente questo che lo faccio insieme al punto d ok proviamo quindi a fare anche il punto d allora dobbiamo quindi determinare la lunghezza di questo percorso d'accordo? mi faccio dare anche il grafico in GeoGebra sarebbe questo segmento vd poi l'arco dc e il segmento cn ma di questi tre uno è facile che è vd vd infatti è un segmento orizzontale e noi conosciamo le coordinate di questo punto e di questo d'accordo? quindi a lunghezza di vd è nient'altro che il valore assoluto di xd meno xv e ci viene quindi in realtà questo è 0 quindi ci viene nient'altro che il valore assoluto della coordinata di v che è era 0,85 circa erano chilometri le unità di misura quindi questo è fatto poi secondo in ordine di difficoltà diciamo c'è cn allora cn è segmento di tangente e noi dobbiamo determinare il punto di tangenza però ora dal grafico questo fatto molto precisamente si capisce che dovrebbe essere 3,4 il punto di tangenza però naturalmente vogliamo calcolarlo e abbiamo due strategie per calcolare il punto di tangenza almeno una è usare di nuovo un sistema quindi io ho trovato prima l'equazione di questa retta tangente posso trovare l'intersezione della retta con la circonferenza con un sistema e troverò le coordinate di questo punto meglio sì con il sistema trovo la coordinata x e poi la coordinata y ci potrebbe essere un altro modo magari più più rapido dal punto di vista dei calcoli trattandosi di una circonferenza infatti noi sappiamo che la tangente in un punto è perpendicolare al raggio di conseguenza io so che un raggio sarà perpendicolare a questa retta quindi io posso facilmente trovarmi l'equazione di questa retta perché passa per l'origine e ha e il suo coefficiente angolare lo determino sapendo che è perpendicolare a quest'altra e dopodiché faccio il punto di intersezione fra due rette e quindi risolvendo un sistema più facile che non retta con circonferenza quindi queste sono due possibilità entrambe valide provo a seguire quella delle due rette che forse è più economica dal punto di vista dei calcoli quindi troviamo punto c di tangenza e avevamo se ci ricordiamo l'equazione di questa retta tangente l'avevamo trovata prima l'equazione di questa retta era se non ricordo male 25 quarti meno meno 4 terzi x andiamo un attimo a riprendere se ce la ricordiamo ok quindi era no era meno 3 quarti sì era meno 3 quarti x più 25 quarti d'accordo? quindi sì 3 quarti ok quindi questa è l'equazione della tangente quindi questo vuol dire che la retta il raggio perpendicolare appartiene alla retta che ha coefficiente angolare 4 terzi quindi troviamolo un attimo quindi la retta chiamiamola non so EC abbiamo detto avrà un coefficiente angolare che sarà uguale a meno 1 fratto il coefficiente angolare di questa tangente cn e quindi diciamo viene quella là era meno 3 quarti quindi questa viene 4 terzi d'accordo? ora trovando l'intersezione e quindi siccome passa per l'origine è 4 terzi x l'equazione ora se metto questa a sistema con l'altra che era appunto meno 3 quarti x più 25 quarti dovrei trovare il punto di tangenza e se non vedo male dal grafico dovrebbe avere coordinate 3 4 quindi lo risolviamo col metodo di confronto quindi 4 terzi x uguale meno 3 quarti x più 25 quarti quindi ci viene 4 terzi x meno 3 quarti e faccio il denominatore comune che viene 12 e quindi mi viene 4 per 4 16 x più e qua viene 3 per 3 9 x uguale 25 quarti quindi qua viene 25 x che si semplifica con il 25 e il 12 si può semplificare con il 4 quindi qua rimane 3 il 25 si semplifica con il 25 quindi mi rimane x fratto 3 uguale a 1 che vuol dire x uguale a 3 e quindi questa è la x del punto di tangenza che abbiamo chiamato c quindi questa qui sarebbe la x di c e per trovare la y di c basta sostituire il 3 in una delle due rette come al solito quindi viene 3 per 4 terzi e quindi 4 giustamente quindi ritroviamo quello che avevamo supposto dal grafico quindi questo adesso abbiamo trovato il punto di tangenza quindi questo ci serve anche per completare il punto c del nostro problema quindi sappiamo abbiamo trovato le formule sappiamo per quali valori di x quelle formule valgono e ci serve anche per trovare naturalmente la lunghezza di questo di questo segmento perché adesso io so gli estremi che sono c ed n e quindi semplicemente con la solita formula teorema di Pitagora per calcolare la lunghezza di un segmento faccio delta x alla seconda più delta y alla seconda usando appunto le differenze fra le x e le y dei due punti e in questo caso abbiamo delta x che è 4 delta y che è 3 perché viene 4 meno 1 e 7 meno 3 quindi sono 4 e 3 quindi vedete che è un triangolo in realtà congruente a quest'altro e quindi è una terna pitagorica facile quindi so già che dirà 5 uguale 5 quindi 3 e 4 ok quindi vabbè 4 era sulla x scusate però è la stessa cosa alla fine d'accordo quindi questo sarebbe il delta x e questo qua il delta y bene quindi abbiamo i due segmenti e le lunghezze dei due segmenti l'ultima cosa che era se volete la cosa che io avevo pensato come domanda un pochino più avanzata era trovare la lunghezza dell'arco compreso fra i due punti di tangenza l'avevo pensato un pochino più avanzata perché è una cosa che abbiamo in realtà visto diverse volte in magari forse più nel contesto di fisica che di matematica che coinvolge un'altra cosa che abbiamo visto sulla circonferenza che sono la relazione fra gli angoli e gli archi quindi se io voglio la lunghezza di questo arco come posso fare? beh posso ricordarmi che se io sapessi questo angolo in radianti io so che l'arco diciamo cd è uguale a raggio per l'angolo e quindi di conseguenza sapere l'arco e sapere l'angolo sono due cose equivalenti sapendo una so anche l'altra come faccio per sapere quest'angolo quanto è? io so le coordinate di questo punto quindi so che questo qui è un segmento lungo 3 e che questo qui è un segmento lungo 4 e quindi io posso ricavare quanto vale quest'angolo perché posso ricavare per esempio il suo seno e il suo coseno sapendo anche che questo tra l'altro essendo 3, 4 e 2 cateti l'ipotenusa è 5 quindi potrei usare la tangente potrei usare il seno o potrei usare il coseno stessa cosa quindi abbiamo il seno di teta per esempio che è uguale a 3 fratto 5 vedete e quindi teta è uguale all'arco seno cioè seno alla meno 1 di 3 quinti e lo facciamo con la calcolatrice e troviamo quanto vale questo angolo incendiamo questa cosa togliamo i messaggi privati mettiamo la calcolatrice quindi abbiamo bisogno della seno alla meno 1 vedete che mi dice arco seno di 3 quinti e vogliamo la risposta in radianti ok quindi viene 0,64 radianti e ora possiamo moltiplicare questo per il raggio e troverò come dicevo prima l'arco r per teta e quindi moltiplicando per 5 questo valore che ho trovato questo qua troverò approssimativamente quindi questo qui lo moltiplichiamo per 5 se ci riesco per 5 che è il raggio ci viene 3,21 e quindi ci scriviamo 3,21 chilometri quindi quindi questo è per l'arco e quindi abbiamo finito perché abbiamo trovato le lunghezze di tutto e abbiamo per riassumere questo segmento che era 0,85 chilometri quest'altro che abbiamo trovato adesso che era già dimenticato 3,21 all'incirca è questo che era 5 e quindi non resta che sommarli ci viene 5 più 3 sono 8 più ancora 1,06 quindi direi 9,06 chilometri in totale se non ho sbagliato questi ultimi calcoli quindi questo conclude anche il punto finale del problema quindi volevo fare ancora il problema del frangiflutti che era il numero 3 in cui in buona sostanza dovevamo determinare in un certo contesto l'equazione di una circonferenza questo è simile a quello che in un'altra versione era l'esercizio dell'automobile abbiamo un muro di protezione di fronte a una spiaggia che magari è una zona sismica e la figura è questa quindi questo è un muro di protezione disposto di fronte a una spiaggia che passa per questi due punti quindi questo ci potrà dare delle informazioni per quanto riguarda l'equazione di questa retta poi abbiamo questo punto B che rappresenta la posizione di una boa e si dice che in un certo punto sconosciuto E c'è l'epicentro di una piccola scossa di terremoto che genera un'onda da fronte circolare che si propaga e si dice il primo punto del muro che viene toccato al fronte d'onda è un certo punto P e in quello stesso istante viene azionata una boa che funge da rilevatore quindi in buona sostanza riguardando la nostra figura c'è da qualche parte sconosciuta una viene generata un'onda circolare che raggiunge il muro e come primo punto tocca a questo ora da questa informazione noi dobbiamo capire che in questo istante l'istante in cui quel punto viene raggiunto la circonferenza sarà di questo tipo quindi sarà tangente questa è l'informazione cruciale perché questa circonferenza è quella che raggiunge il punto P per primo se io disegno una cosa del genere è vero che tocca il punto P ma il fatto che questi qua li ho disegnati qua al di là del muro significa che l'onda in questi punti è già arrivata prima e di conseguenza non può essere questo il disegno giusto quindi quell'informazione ci fa capire che la circonferenza a considerare deve essere tangente al frangifrutti e inoltre allo stesso istante deve passare anche per il punto B adesso ho fatto un disegno orribile però è un disegno preliminare che ci deve far capire cosa stiamo cercando quindi intanto ci fa capire che insomma più o meno sarà in questa zona al centro apparentemente anche in questo disegno ho fatto abbastanza male e e ci fa capire insomma che cosa dobbiamo fare e innanzitutto capiamo traduciamo questa informazione con ok la circonferenza che sto cercando è tangente al punto P alla retta disegnata e passa per il punto B e quindi con queste due informazioni noi cerchiamo di determinare la circonferenza sono informazioni sono tre in realtà se vedete perché ci sono due punti di passaggio e la tangenza a questa retta quindi si chiedeva di determinare questa questa equazione della circonferenza con due metodi col metodo dei fasci e con un altro metodo a scelta quindi proviamo intanto a fare il grafico un attimo con GeoGebra e così ci metto anche i quadretti e poi ci facciamo le costruzioni quindi questo è il disegno il stesso disegno per TengioGebra e intanto vediamo con il metodo dei fasci come si potrebbe fare allora ci sono almeno due strategie secondo me una quindi abbiamo tre caratteristiche il passaggio per questi due punti e la tangenza qui dobbiamo trovare un fascio di circonferenze che abbia almeno due di queste caratteristiche e poi che soddisfi anche la terza quindi io vedo almeno due metodi uno trovo il fascio di circonferenze che passano tutte per B e per P a quel punto cerco la circonferenza particolare di quel fascio che oltre a passare per quei due punti come tutte le altre appartenenti a quel fascio è anche tangente a questa retta quindi impongo dopo la condizione di tangenza oppure la strategia che proverò a seguire in questa correzione siccome la condizione di tangenza è solito quella che rompe di più le scatole potrei già includere nel mio fascio quindi creo il fascio di circonferenze tutte tangenti alla retta data nel punto P e poi alla fine trovo quale delle circonferenze di questo fascio tutte tangenti a quella retta in quel punto trovo quella circonferenza che passa proprio per B e di conseguenza questo ci risolverà il problema imporre il passaggio per B è facile perché basta sostituire e quindi la nostra tecnica che in realtà abbiamo già usato non è che ci fosse molto da inventare alla fine perché l'abbiamo già usata in diversi problemi del genere è trovare il fascio di circonferenze tangenti e poi imporre il passaggio per B quindi vediamo un attimo come posso generare un fascio di tangenti nel punto P allora posso usare per generare il fascio ci ricordiamo le circonferenze dei generi che sono le più facili di solito da individuare dal punto di vista dell'equazione le circonferenze dei generi di un fascio di tangenti sono la rete tangente stessa che rappresenta l'asse radicale e il punto di tangenza che rappresenta una circonferenza di raggio 0 quindi le due generatrici sono una la circonferenza di raggio 0 coordinate 3,0 quindi sarà x meno 3 alla seconda più y alla seconda uguale a 0 questa è una circonferenza di raggio 0 con centro in quel punto e quindi questa ce la siamo già sbrigata poi la seconda generatrice è la retta della retta la ricaviamo perché veniva dato un altro punto vediamo che possiamo ricavare il coefficiente angolare che è 2 meno 0 e 7 meno 3 quindi 2 fratto 4 cioè un mezzo e poi troviamo l'intercetta per esempio sostituendo il punto P quindi abbiamo y uguale un mezzo x più q e poi passa per il punto P e quindi per 3,0 quindi viene 0 uguale 3 mezzi più q e quindi q uguale meno 3 mezzi quindi questo ci dà l'equazione della seconda generatrice un mezzo x meno 3 mezzi e quindi siamo a posto per le generatrici adesso ci scriviamo il fascio dobbiamo sommare i due primi ah per prima cosa dobbiamo rimetterci questa in forma implicita quindi posso per esempio moltiplicare anche tutto per 2 così non mi trovo più denominatori che magari possono complicarmi i calcoli e posso scrivere quindi x meno 2y meno 3 uguale a 0 ho moltiplicato tutto per 2 e ho portato la y allo stesso membro del resto ora con queste due ci scriviamo il fascio che ci ricordiamo dobbiamo mettere ciò che c'è a primo membro di entrambe le equazioni delle generatrici e quindi questa è l'equazione del fascio di questo fascio sono circonferenze appunto come ho descritto tangenti al punto P di queste circonferenze tangenti noi vogliamo tangenti nel punto P alla retta data e di queste io voglio quella che passa per B che aveva coordinate meno 3 e 2 e quindi basta sostituire all'interno dell'equazione del fascio per trovare K quindi se B è meno 3 come x qua viene 6 alla seconda quindi 36 qua viene 4 qua viene K per allora qua viene meno 3 meno 4 meno 3 giusto? quindi meno 10 e qua viene 40 uguale 10K quindi K uguale un quarto quindi questo è il valore di K che serve per diciamo è relativo alla circonferenza che stiamo cercando dato che io ho sbagliato ovviamente 40 fratto 10 quindi 4 non 40 e ho fatto qua il grafico angio gebrat e ho detto l'equazione del fascio che abbiamo appena ricavato vedete che sono tutte circonferenze tangenti e quella con K uguale 4 è proprio quella che avevamo richiesto quindi per trovare vediamo un momento di preciso qual era la richiesta la richiesta era trovare il punto in cui si trova l'epicentro d'accordo? quindi se vogliamo l'epicentro abbiamo bisogno del centro di questa circonferenza che sarà l'epicentro d'accordo? quindi posso ricavarmi l'equazione se voglio e poi da lì leggere le coordinate del centro oppure scrivere l'equazione in termini di K e poi usare le coordinate del centro in funzione di K e poi sostituire 4 si può procedere in entrambi i modi possiamo anche trovare l'equazione della circonferenza così magari la controlliamo anche dopo se lo facciamo in un altro modo quindi viene x al quadrato più 3 al quadrato che fa 9 meno 6x più y alla seconda poi c'è più kx meno 2ky meno 3k uguale a 0 e riscriviamo un attimo x alla seconda più y alla seconda poi qua viene meno 6x più kx poi viene 2ky e meno 3k più 9 uguale a 0 spero di non aver perso i pezzi perché sono leggermente stanco perché sono leggermente stanco e mi rivelo di attenzione è basso quindi questa è l'equazione in termini di K sostituendoci K troviamo l'equazione della circonferenza che ci interessa abbiamo K uguale a 4 quindi è meno 6x più 4x quindi viene meno 2x qua viene meno 8y e qua viene meno 12 più 9 che quindi è meno 4 se non mi sbaglio e quindi le coordinate del centro che è l'epicentro sono meno a fratto 2 quindi 1 e meno b fratto 2 quindi 4 ora preghiamo insieme che i calcoli siano giusti perché non penso avere la forza di rifarlo quindi per fortuna direi che i calcoli sono giusti e questo è proprio il centro di questa circonferenza quindi abbiamo trovato l'epicentro e beh per inciso abbiamo trovato anche l'equazione della circonferenza che rappresenta proprio non il fascio di circonferenze ma la specifica la circonferenza che è quella che tocca appunto in un solo punto il i frangiflutti e che passa per il punto b d'accordo ora vediamo con un altro metodo come si poteva fare a trovare questo risultato quindi il secondo punto dell'esercizio se voglio fare con un altro metodo come potrei fare dunque anche qui ho diverse ipotesi per riuscire a imporre la condizione di tangenza e cancelliamo un attimo questa costruzione e cancelliamo anche il punto che abbiamo trovato a essere il centro d'accordo? quindi come si può trovare il centro della circonferenza e poi quindi anche l'equazione circonferenza in questo caso noi sappiamo due cose sappiamo che è tangente che ha questa retta e che passa per quest'altra quindi un modo potrebbe essere impostare un sistema e poi impostare una condizione di tangenza ma un altro modo forse più conveniente dal punto di vista dei calcoli può essere sfruttare proprietà geometriche della circonferenza quindi abbiamo sappiamo che la tangente in un punto sarà perpendicolare al raggio quindi di conseguenza se io traccio perpendicolare qui so che il centro deve giacere su questa retta che ho appena tracciato inoltre so anche che dati due punti di una circonferenza che individuano quindi una corda il centro sta per forza sull'asse della corda perché deve essere equidistante da B e da P e quindi questa è una cosa importante che possiamo appunto sfruttare e a questo punto il punto di incontro è come vedete lo stesso punto che abbiamo trovato prima come centro ora come facciamo per tradurre in calcoli quindi in un procedimento analitico questo diciamo questa procedura geometrica di costruzione che abbiamo eseguito andiamo passo passo quindi procediamo troviamo l'equazione di questa retta l'abbiamo già trovata il coefficiente angolare è un mezzo quindi questo significa che il coefficiente angolare di quest'altra sarà meno 2 e deve passare per il punto P quindi troviamo questo punto in realtà era E d'accordo? il nostro epicentro quindi passa per il punto P ed ha coefficiente angolare meno 2 allora deve essere quindi la retta EP diciamo avrà come equazione meno 2x più q e deve soddisfare a questa e quindi trovo q uguale a 6 quindi è y uguale meno 2x più 6 quindi qui abbiamo la nostra prima retta seconda retta deve essere l'asse del segmento BP d'accordo? quindi devo fare la media delle coordinate quindi se faccio la media delle x viene meno 3 più 3 fratto 2 che fa 0 giustamente infatti vediamo che il punto medio è in x uguale a 0 e poi la media delle y 2 più 0 fratto 2 che fa 1 e quindi troviamo che il punto medio è per l'appunto 0,1 quindi quel punto F quindi la retta FE come la troviamo? abbiamo il punto F che abbiamo detto è 0,1 e inoltre sappiamo che deve essere perpendicolare alla retta che contiene BP ora la retta che contiene BP come coefficiente angolare ha meno 2 e 6 come possiamo verificare anche facendo i calcoli xdp meno xdb ydb meno ydp ok? e quindi troviamo un coefficiente angolare di meno un terzo e questo significa che il coefficiente angolare di questa retta qui sarà 3 ora se il coefficiente angolare di quella retta è 3 vuol dire che dovremmo scrivere 3x più q e poi passa per F e quindi abbiamo 1 uguale buona sostanza e lo sapevo già effettivamente passando per questo punto ne avevo bisogno di fare questo marchi in genio quindi y uguale 3x più 1 d'accordo? notare che qui ho sempre usato la sostituzione ma le equazioni delle rette passanti per un punto si possono sempre trovare usando questa formula che è un altro modo di vedere la stessa cosa quindi ora trovo il punto di incontro di quelle rette e dovrebbe essere il nostro centro che abbiamo trovato prima quindi mettiamo insieme queste due equazioni con il metodo il confronto meno 2x più 6 uguale 3x più 1 quindi viene x devo versetto qualcosa no no non ho sbagliato bene 5x non x uguale a 5 ok quindi x uguale a 1 bene e quindi quello che ho trovato prima poi sostituisco x uguale a 1 ad esempio qua 3x1 più 1 fa 4 quindi questo è il punto E che stavamo cercando e questa quindi è l'epicentro a questo punto ci chiedevano forse anche l'equazione di circonferenza in forma canonica e così la confrontiamo anche con quella di prima d'accordo allora il raggio in questo caso riprendiamoci il grafico il raggio lo possiamo calcolare come la lunghezza di uno qualsiasi dei segmenti eb oppure ep quindi sempre con la stessa tecnica in questa verifica effettivamente veniva usata un bel po' di volte troviamo questo 4 queste due e quindi il raggio sarà radice di 2 alla seconda più 4 alla seconda quindi 16 più 4 quindi radice di 20 cioè 2 radice di 5 2 radice di 5 è quindi la misura del raggio radice di 20 e quindi la nostra equazione sarà x meno 1 alla seconda più y meno 4 alla seconda uguale 20 e in forma canonica abbiamo x alla seconda più y alla seconda meno 2x meno 8y e poi avevamo 1 e 16 quindi più 1 più 16 uguale 20 e quindi rimane x alla seconda più y alla seconda meno 2x meno 8y meno 3 uguale a 0 e di nuovo incrociamo tutti le dita perché venga lo stesso risultato di prima che viene così ok viene così perché ho sbagliato quindi vedete che a volte o meglio spesso serve fare risultati le cose in due modi qua avevo fatto un errore banale in realtà però comunque è un errore qui viene meno 12 più 9 fa meno 3 non meno 4 quindi questa è l'equazione giusta e infatti l'equazione che abbiamo trovato con l'altro metodo quindi questo conclude anche il secondo esercizio il secondo problema non ho fatto in questo video la correzione del primo esercizio che però era abbastanza breve abbastanza basilare e avevo praticamente già detto prima che ci sarebbe stato un esercizio così quindi in effetti molti l'hanno fatto bene e qualcuno ha dimenticato magari qualche pezzo purtroppo perché così non ha preso il punteggio massimo però diciamo che i due esercizi più problematici erano questi due e quindi spero che questa correzione sia stata utile se vedete errori o se naturalmente avete richieste di ulteriori chiarimenti me lo potete fare e in un modo o nell'altro cercherò di rispondere e basta quindi ci vediamo alla prossima cioè domani di fisica ciao ciao